Se avete mai riscontrato così questo errore sul vostro sistema operativo riguardo alla schermata blu, l'errore B, S, O, D che ogni tanto esce sul tuo computer vuol dire che c'è qualcosa di veramente danneggiato nel tuo computer e sul sistema operativo riscontravo questo problema a causa anche di un disco montato malissimo nel mio computer. Ogni volta che avviavo qualche gioco o applicazione mi usciva questa schermata blu e quando l'avviavo su un altro disco non mi usciva niente. Quindi poi si è scoperto che quel disco si è danneggiato nel mio computer, però era collegato ma non funzionava bene. Quindi in questo caso possiamo anche risolvere il problema di questa schermata blu perché ogni volta che esce, poi esce così un caricamento e poi si riavvia il sistema e ritorna così a questa schermata. Quindi in questo caso andiamo un attimo sul nostro cmd prompt dei comandi e facciamo esegui come amministratore. Una volta fatto facciamo così una verifica dell'integrità dei file, quindi in questo caso vai a scrivere sfc spazio slash scanno e attendiamo così la scansione di questi file per vedere se c'è qualcosa di danneggiato nel computer. Protezione e risorse di windows e nessuna violazione di integrità trovata. Fortunatamente non c'è nessun problema qua sul sistema, quindi in questo caso chiudiamo un attimo questo cmd e ora andiamo sul nostro powershield, windows powershield. Dato a destra sopra esegui come amministratore. Una volta fatto in descrizione ti ho lasciato così il comando da inserire che sarebbe questo qua. Ovviamente vai a scrivere direttamente, quindi vai a scrivere di i quindi di i s m spazio slash online spazio slash clean up frattino image spazio slash restore. Restore h health. Così e facciamo invio. Operazione di ripristino riuscita. Ora una volta fatto devi solamente scrivere exit e fai invio. Ora andiamo un attimo sul nostro disco. Questo pc, disco locale c, mostra tropezioni e proprietà. Strumenti. Controlla. Analizza l'unità. Controlliamo se ci sono errori. Analisa dell'unità completata, non sono stati rilevati errori. Facciamo chiudi. Se invece vuoi anche ottimizzare e fare una defragmentazione dell'unità puoi farlo. Quindi facciamo ottimizza. Ottimizzi così il tuo disco. L'ottimizazione è necessaria. Quindi ottimizza. E facciamo chiudi. Una volta fatto tutto, quindi una volta fatte queste analisi, riavvia il tuo sistema. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.